Voi siete già consacrati degli anni del battesimo, ora Cristo vi benedice di rafforza con il sacramento di Sia, perché vi amiate un lato con amore e fedele ed inesaurite e assumiate essenzialmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedono di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Luigi e Monica, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in piena libertà e voi sapete del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amare e ad amare l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere in buon lavoro i figli che Dio ha corretto amare, gli educanti secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Se dunque fosse intenzione di un matrimonio, datevi la maniera ed esprimete davanti a Dio la sua Chiesa il vostro consenso. Io, Luigi, a cuore poteri, a cuore poteri, a cuore mie e a cuore mie, sulla scuola, Con la grazia di Cristo, prometto di esserti sempre di te, è la gioia di Cristo, è la salute della morte, e amarti adorati tutti i giorni. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti sempre di te, è la gioia di te, è la salute della morte, e amarti adorati tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa, e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Monica, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.